L'associazione Jack Donna proporrà cinque serate dedicate alla proiezione di film sulla valorizzazione e la tutela dei diritti umani. Sì, quest'anno Jack Donna ha deciso di fare una rassegna cinematografica sui diritti umani. Noi siamo inseriti nel cartellone dell'estate agrigentina e abbiamo deciso di trattare i diritti umani perché oggi è come essere tornati indietro. I diritti umani sono stati dichiarati nel 1948 e ci accorgiamo, guardando la realtà che ci circonda, che la legislazione è molto più avanti rispetto alla realtà. Tanto è vero che non solo nei paesi dittatoriali ma nei cosiddetti paesi democratici noi vediamo che molto spesso vengono violati questi diritti umani. Basta pensare ai bambini soldati, alle donne lapidate, basta pensare alle donne che ancora sono sottopagate, che ancora vengono pagate di meno soprattutto nel privato. E quindi per far riflettere la cittadinanza e soprattutto le donne su quelli che sono i propri diritti noi abbiamo deciso di trattare questo tema. Grazie a tutti. Grazie.